Cerimonia ufficiale di passaggio delle consegne della FIDAPA sezione di Termoli, il movimento di opinione e di impegno nel valorizzare la figura femminile che opera nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, e per rimuovere le discriminazioni che molto spesso coinvolgono le donne. Il passaggio è avvenuto tra la past presidente Smeralda Pettine, che è stata presidente nel biennio 2021-2023, e la nuova eletta Fernanda Pugliese, che ricoprirà il medesimo ruolo nel prossimo biennio, ma anche l'inaugurazione dell'anno sociale. Le emozioni della Pettine nel ricordare il suo ruolo e le iniziative che hanno caratterizzato la FIDAPA, e l'entusiasmo della Pugliese nel raccogliere questo importante testimone. Si conclude questo biennio perché la presidenza nella FIDAPA dura due anni. È stato per me un biennio positivo, ho cercato sempre di collaborare con altre associazioni, con le scuole, portare tutti i messaggi che appunto che è inerenti a quello che comporta la FIDAPA sulle donne, sulla parità, ma anche abbiamo trattato argomenti sulla natura, con la piantumazione di alberi insieme al Lions Club, con l'AMI, e tante iniziative perché la mia idea è stata sempre quella della collaborazione. Mi approccio sempre con le intenzioni di fare bene e di cercare di dare una mano a questa associazione che a livello nazionale è molto conosciuta, ma anche a livello internazionale, noi nelle nostre sezioni, quindi nelle nostre regioni, ecco, cerchiamo di dare una mano e di sensibilizzare questo movimento di opinione, quindi sensibilizzare un po' l'opinione pubblica su tanti argomenti, a partire dalla violenza, ma poi anche dal bullismo, infatti abbiamo adottato anche nei tempi passati la carta dei diritti della bambina, insomma ci sono tanti argomenti. Condivisione e continuità sono un po' le parole di riferimento di questo nuovo biennio. Presente anche la vicepresidente nazionale, Anna Maria Elvira Musacchio. Un bellissimo risultato per la sezione FIDAPA-PPW Italy di Termoli, sì perché effettivamente è stato un risultato direi inaspettato, improbabile, proprio perché il Molise è debole numericamente, ecco, consta solo di quattro sezioni e che insomma si vanno a rapportare col numero totale delle sezioni italiane che sono 311 e quindi questo risultato grazie all'appoggio dei sette distretti d'Italia.